ciao a tutti benvenuti alla seconda puntata di docenti presenti oggi insieme a me c'è la mitica anna che ci racconterà la sua storia ma andando subito al sodo senza perdere tempo ti faccio anna la primissima domanda che è quella poi più difficile chi sei da dove vivi dove vivi quali sono le tue passioni dove insegni raccontaci un po di te allora hai già detto tu io mi chiamo anna vivo a milano e sono un insegnante di sostegno la mia storia nasce più di 40 anni fa perché i miei anni di servizio sono questi ed è una storia che nasce un po in maniera particolare nel senso che ero supplente in una circolo didattico si chiamavano così ancora allora e ho cominciato a fare delle supplenze in una scuola speciale erano già state chiuse le scuole speciali però questa scuola speciale di milano dove io ho fatto i primi passi era ancora attiva e lo è tuttora è ancora una scuola attiva e devo dire che quella è stata la scintilla nel senso io appena ho avuto modo di entrare in questa realtà mi sono resa conto subito quale era lo scopo della mia vita soprattutto dal punto di vista lavorativo ecco quindi ben bruciata la seconda domanda è perché hai scelto di insegnare quindi adesso allora allora inizialmente la scelta forse è stata un po indotta è quando ho cominciato ad avere esperienza anche minima a conoscere le persone che già lavoravano all'interno di questa struttura comunque era una scuola statale e non non era una scuola privata mi sono resa conto che quella doveva essere la mia strada quindi qual è la mia strada essere insegnante di sostegno io l'ho mantenuto per 40 anni ho avuto pochissima esperienza in classe comune e ho mantenuto questo ruolo quindi io sono e ci tengo molto a dirlo con grande soddisfazione un insegnante di sostegno punto il grosso problema che io ho affrontato considerando proprio tutto il mio percorso è stato nel momento in cui forse perché frequentando persone che avevano partecipato a quella che poteva essere un iniziale lotta della chiusura delle scuole speciali e quindi integrazione degli alunni ho voluto fare l'esperienza di insegnante di sostegno all'interno della scuola comune realtà che io non conoscevo perché lavorando in una scuola speciale tu sai sono tutti bambini con disabilità anche grave ma non avevo mai avuto esperienza di scuola comune e lì ho avuto dei grossi problemi perché le realtà sono completamente diverse e allora che cosa ho fatto ho cominciato a pensare che la mia formazione che risaliva sicuramente a 40 anni fa se non di più forse qualche anno in più non non era più sufficiente nonostante avessi le basi e quindi mi sono iscritta all'università io non ero ancora riuscita a a prendere una laurea e forse anche lavorare in una scuola speciale non mi aveva dato quello stimolo per poter crescere professionalmente anche se dal punto di vista professionale la mia crescita io l'ho avuta nel tempo e mi sono iscritta all'università ho preso una prima laurea nel 2019 e poi ho scoperto che la formazione continua è quello in cui credo e soprattutto credo ma ma anche perché ritengo che sia indispensabile quando hai a che fare con dei bambini all'interno di una quando educhi quando insegni e quindi ho preso recentemente il 25 di febbraio la seconda laurea quindi adesso io sono diventata una pedagogista ma dai che bello c'è quindi nel giro di di poco cinque anni una vera secchiona questo a me ha aiutato molto anche perché e qua entro un po nel merito della situazione un po più seria che non riguarda me la scuola è cambiata tantissimo il cambiamento che la scuola ha affrontato nel tempo non può esimere l'insegnante a non stare al passo capisci tu devi cominciare al passo i bambini sono diversi la società è diversa le richieste che la società fa e partiamo già dalla scuola della primaria non è che io parlo di sono completamente diverse e quindi mi sono resa conto che avevo bisogno di approfondire certi argomenti e quindi di ed è stata un'esperienza bellissima arricchente si stimolante sfidante oltretutto perché comunque poi alla fine è una sfida che tu fai cioè adesso io non ho detto quanti anni ho ma io ho 63 anni quindi fai conto che io ho iniziato a fare l'universo a studiare all'università cinque anni fa quindi ero già bella attaccata è un ma ne avevamo già parlato al telefono è un cruccio che ho anch'io da un po di tempo quello di di scrivermi ascoltando la tua storia quasi quasi appena chiudo l'intervista vado a cercare subito quel preferiti che ho nella nella sezione nascosta del mio computer è quasi quasi ci clicco sopra si apre anche un mondo diverso nel senso noi siamo comunque persone abbiamo questa grande ricchezza del rapporto con gli altri la di essere in relazione allora io nella scuola sento tanto malcontento sento tante persone che si lamentano e accuso spesso e volentieri anche l'incapacità da parte delle persone di trovare soluzioni mi sembra quasi che spesso e volentieri all'interno della scuola ci sia più la volontà di lamentarsi piuttosto che quella di trovare delle soluzioni tu entri in un ambiente completamente diverso ti confronti con le persone hai la possibilità di avere delle basi anche per dire di conoscenza che ti consentono di avere una visione più ampia e quindi è una crescita continua tu continua c'è lo studio sì sì lo studio io ho vissuto diciamo in seconda adolescenza perché la mia prima esperienza scolastica è stata pressoché drammatica quasi quasi da io speriamo che me la cavo poi crescendo ho trovato la mia strada ho scoperto l'informatica ma in realtà io da quel momento lì non ho più smesso di formarmi indirettamente perché poi vuoi la tecnologia vuoi comunque capire il mondo dell'istruzione vuoi studiare qualsiasi cosa per poi metterla in atto è una cosa che mi piace fare che non mi dà nessuno peso soprattutto secondo me pensando che hai una grossa responsabilità quando hai fronte i tuoi 23 25 quello che è bambini tu hai una responsabilità per ognuno cioè non è più possibile che l'insegnante arrivi a scuola con la lezione pronta tu devi arrivare a scuola sentire qual è la l'atmosfera ovvio hai una tua progettazione la porti avanti sentire qual è l'atmosfera e partire da quello che è il bisogno del bambino se no non lo agganci più cioè devi trovare il modo di far sì che il bambino impari ad amare la scuola impari ad amare lo studio questo è importantissimo mi parlavi di di sostegno quindi molto probabilmente un'esperienza totalmente differente di insegnare davanti magari a ragazzini di a una classe intera e di solito a questo punto c'è una domanda e forse con te ancora più senso perché secondo me essendo dei ragazzini veramente speciali che vogliono che hanno necessità totalmente differenti è ancora secondo me più significativo e quindi cosa imparato nel corso di questi anni da questi alunni che in realtà poi ci vivi giornalmente ecco è differente magari stare con 25 studenti all'interno di una classe l'alunno in questo caso lo vivi direttamente e quindi cosa 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 imparato allora intanto faccio una piccola premessa perché ci tengo a precisare che è vero io sono un insegnante di sostegno e sono orgogliosa di esserlo ma io vivo all'interno di una classe per cui nonostante io trovi delle modalità per far sì che il mio bambino venga accolto inclusivo all'interno della classe non perdo di vista neanche gli altri perché la cosa deve essere reciproca io ho avuto l'opportuna di avere delle colleghe che mi hanno dato l'opportunità anche di insegnare l'anno scorso per esempio ho insegnato geografia a tutta la classe quindi non solo seguivo il mio alunno ma nel momento in cui ho capito cioè ci siamo resi conto che l'insegnante di sostegno è anche insegnante di classe questa è una grossa lotta che molti docenti stanno percorrendo e purtroppo è molto facile che all'insegnante di sostegno si dica quello del tuo bambino gestisci te lo fai ma non deve essere così cioè il bambino è inserito in una classe e la classe è il contesto e tutti insieme no quindi questa era una premessa che volevo anticipare prima di darti la risposta poi per quanto riguarda invece l'esperienza che io ho avuto vivendo nel mondo della disabilità e lo voglio definire così volutamente mi ha cambiata totalmente io non so come potevo diventare perché questa è la mia vita quindi ma loro ti insegnano tantissimo cioè il sapere che tu comunque sei la persona alla quale prima di tutto loro devono fidarsi di te quindi tu devi essere in grado di far capire a questi bambini che devono avere fiducia e per poter dare la fiducia a questi bambini devi mettere in atto un sacco di azioni come fai e io devo dire che nella mia vita lavorativa ho sempre avuto delle grosse soddisfazioni da questo punto di vista ho sempre trovato delle risposte cioè la relazione che riuscivo a costruire con questi bambini è sempre stata una relazione positiva che poi ha portato dei frutti bambini che magari io ho avuto anche bambini che non parlavano un ragazzo oltretutto straniero pensa un ragazzo straniero perché era arabo con che non parlava non diceva una parola gli abbiamo insegnato a usare la comunicazione aumentativa alternativa l'ho portato a fare una settimana qui a Milano c'è il comune di Milano organizza queste settimane che si chiamano scuola natura dove mettono a disposizione delle colonie e tu puoi stare una settimana a vivere in una realtà diversa rispetto a quella scolastica no quindi l'abbiamo portati erano un gruppetto di bambini li abbiamo portati in questo posto che è in Piemonte e allora tu prova a immaginare quando a un certo punto dove in questo posto oltre a noi che eravamo con cinque bambini della nostra scuola c'erano magari altre tre quattro classi di bambini di altre scuole normali allora tu prova a immaginare il momento in cui sei lì che magari stai facendo una passeggiata torni merenda ti metti un po' fuori in giardino e lasci che i bambini giochino un po' e trovi seduta su una panchina questo ragazzino con la sua tabella con tutti i simbolini della comunicazione aumentativa alternativa che dialoga con gli altri bambini che bello viene la pelle d'oca quindi questo ti fa questo per dirti che comunque io ho soltanto avuto delle grandi ricchezze nell'esperienza che che ho certo mi hanno messo nelle condizioni di essere così grata a questi risultati a queste risposte che poi io stessa no mi sono posta in condizione positiva nei confronti di però sicuramente mi hanno arricchita tantissimo ed è veramente in maniera guarda questo ragazzo poi alla fine ha imparato anche a creare un libri i libri questa comunicazione aumentativa dà la possibilità anche di creare libri facilitati che possono andar bene sia per gli stranieri e per i bambini anche con disabilità perché non hanno le parole ma hanno questi simboli che sono disegnini quindi sono anche semplici si possono li può leggere chiunque minimo di capacità però sono percepibili i significati ha scritto insieme a me un libro l'abbiamo tradotto lui aveva visto un film che gli era piaciuto tantissimo sì e allora gli ho proposto di raccontare a modo suo questa storia ma ha fatto questo librettino con tutti questi con la storia fatta pezzettine di simboli e poi l'abbiamo regalato alla dirigente e tu dovevi vedere la soddisfazione di questo ragazzino e beh si cresce sentito utile e importante il tuo lavoro no no che bello si è sentito veramente utile e importante eh sì ma è questa è la cosa più importante secondo me cioè poi alla fine tu devi valorizzare le persone chiunque tu abbia davanti devi sempre trovare il modo che loro riconoscano il loro valore e quindi devi 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 dargli devi dargli lo stimolo perché se non si valorizzano loro cioè tu non è che vai lì e di ah come sei bravo va bene però devi saper fare in modo che loro stessi si sappiano valorizzare per riconoscere le loro capacità e le loro potenzialità questo penso che sia anche per chi per chiunque persona viva la storia di un studente ecco per me è fondamentale questo aspetto secondo me è una cosa bellissima che hai detto proprio perché cioè siete voi docenti bravi a trasmettere a dare quella scintilla che ti dà poi la possibilità veramente di esplodere una tua passione quindi io quando parlo di responsabilità mi riferisco proprio a questo sì 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 ci sono rispecchiato molto nella seconda fase della mia esperienza da studente dove c'era un professore di informatica a cui io devo tantissimo che ci ha proprio trasmesso la sua passione e che poi è diventata indirettamente la mia e che mi ha fatto diventare quello che sono quindi un informatico che poi piano piano ha scoperto tantissime altre sfaccettature del mondo digitale però è nato tutto da lì quindi se trovavo un professore asettico e senza passione e senza animo ed era difficile e cavoli se trovi delle persone così dall'altra parte diciamo della della tendenza diventa diventa veramente fondamentale certo ti voglio fare l'ultima domanda anche perché secondo me poi fondamentale sì sì sono brevi 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 non voglio rubarti ma guarda però te ne faccio una che però non c'entra niente visto che parli di sostegno secondo te quanto è ancora distante il fatto di arrivare a un coinvolgimento totale all'interno di una classe quindi abbattere quella che è la barriera è un tuo parere personale cioè l'olio proprio personale cioè non voglio una una risposta burocratica cioè io vedo che ci sono ancora delle barriere ahimè viviamo perché anche in classe di mia figlia c'è un ragazzo che è seguito da docenti di sostegno e a volte percepisco ancora magari la diffidenza degli studenti parlo degli studenti quindi voglio capire secondo te proprio un parere tuo personale quanta strada c'è ancora da fare su questo aspetto per arrivare poi ad avere veramente una classe coese compatta dove ognuno si senti partecipe della propria crescita guarda io ti do una mia una mia risposta proprio personale ma che è supportata da degli studi che io ho fatto recentemente allora il problema c'è hai ragione nel senso che c'è ancora un divario non c'è ancora ma lo vedo in tanti aspetti non solo nel mondo della disabilità io lo vedo anche nella situazione caso per caso io ho conosciuto una metodologia che si chiama universal design for learning nasce da studi dell'architettura americani dove praticamente da questi studi venivano costruite delle case ad hoc per chi poi ci doveva andare a lavorare quindi c'era uno studio una progettazione precedente a quello che poi doveva essere la realizzazione dello stabile ecco portata poi questa metodologia alla educazione all'aspetto educativo mi ha fatto capire come in effetti il discorso dell'equità è da tenere in considerazione cioè noi non dobbiamo lavorare sull'uguaglianza ma sull'equità cosa vuol dire c'è una vignetta molto chiara quando presentano questo lavoro dove c'è praticamente tre bambini un albero i bambini sono uno più piccolo uno più alto e quando per far vedere le l'uguaglianza hanno tutti lo stesso gradino salgono tutti sullo stesso gradino e chiaramente c'è chi arriva prima chi arriva l'altra invece è che il gradino sia più alto per il più piccolo e meno alto per il modo che tutti arrivano allo stesso livello quindi questo perché te lo te lo sto raccontando ho divagato un attimo per dirti che comunque è vero che c'è ancora da lavorare ma non solo nel mondo della disabilità dove c'è tutto un aspetto anche sociale che entra in gioco perché anche lì bisogna vedere anche a livello di famiglie cioè purtroppo l'impegno e la responsabilità delle famiglie ha un suo peso anche ma proprio anche come azione nei confronti di ogni singolo bambino e su questo io anche se a presto andrò anche in pensione quindi lavorerò molto perché ci credo tanto in questa cosa oggi più che mai il bambino deve essere al centro tutto deve partire dal bambino che sia disabile che sia normale che sia dislessico ma deve partire dal bambino e soltanto partendo dal bambino tu puoi lavorare per portare a casa qualcosa di buono e soprattutto dall'interesse del bambino io per esempio quando lavoro con i miei bambini io cerco sempre di fare lo stesso lavoro che fa la classe lo coinvolgo magari si fa matematica fanno i problemi lui farà sicuramente un problemino molto più semplice però lui è dentro alla situazione dei suoi compagni gli fanno le domande lui va fuori fa i disegnini alla lavagna cioè partecipa ed è completamente però si parte da quello che è il suo la sua potenzialità lui fa sempre bella figura comunque con me l'importante l'importante è questo quindi c'è il problema c'è è un problema che si sente molto nell'ambito della disabilità perché comunque la disabilità è è una caratteristica e sulla quale però per esempio io collaboro molto con due università sia l'università di genova che l'università cattolica per formare gli insegnanti che fanno la il corso di specializzazione e cioè i corsi sono molto seri sono fatti molto bene sono danno delle grosse potenzialità a queste persone mancano anche molti insegnanti di sostegno e qui ti do la risposta più burocratica ma la maggior parte delle volte vengono affidati questi bambini a persone che non hanno la specializzazione e che ora capiscono come devono intervenire ci passa mezzo anno scolastico ma poveretti non è neanche colpa loro è il sistema che non funziona capisci senti un po con l'ultima domanda risvestiamo subito i panni da maestra che voglio proprio invece un messaggio di cuore quello è il messaggio che vorresti lanciare alla scuola del futuro allora mi viene così di getto siate quello per cui siete nati no nel senso siate quello per cui siete nati vuol dire voi avete comunque una vostra caratteristica siete persone vivete all'interno di una vostra famiglia avete tutto quello che c'è intorno a voi è quello che vi forgia vi crea puntate sempre e solo ai bambini lo sto dicendo ad essere quello che siete e qui si aggancia il discorso che l'insegnante deve scoprire chi ha davanti non deve dire siete tutti uguali vi insegno la matematica allo stesso modo quindi in questo senso lo intendevo siate quello per cui siete nati e quindi fate venire fuori il meglio di voi stessi e l'insegnante deve assolutamente andarlo a riconoscere trovarlo quindi questo credo che sia tieni conto poi che adesso questi poveri ragazzi con la società che abbiamo devono inventarsi dei lavori nuovi perché non c'è più neanche la sua responsabilità la responsabilità della comunicazione non è poco perché all'epoca mia facevi l'insegnante e ciao arrivederci grazie adesso qua c'è gente che deve inventarsi il lavoro e quindi tu gli devi dare tutte le competenze per poter far sì che questa persona sappia risolvere i problemi sappia darsi delle risposte trovare delle soluzioni diciamo che è una bella formazione trasversale adesso è molto trasversale perché in realtà è sempre lo dico con molta coscienza il ruolo dell'insegnante non è più così semplice come un tempo adesso è veramente molto impegnativo e quindi se questa intervista viene ascoltata da molti miei colleghi io mi congratulo con loro e con me stessa perché so che si impegna lo fa con serietà e con risposta sì sì è vero ma ecco perché poi è nata in questo momento la rubrica docenti presenti perché ultimamente ma anche da parte mia che comunque è un lavoro a cui vendiamo un sacco di cose per la scuola dei docenti ci siamo accorti che parlavamo solo di crescita personale quindi formazione, formazione su determinati prodotti e quindi ho visto che i docenti erano un pochino stanchi e sempre bombardati da nuove informazioni e mi sono un attimino cercato ho cercato veramente di mettermi un attimino nei loro panni dicendo ma io posso ascoltare quattro formazioni alla settimana e basta ecco perché ho voluto fare poi questa cosa in collaborazione con Orizzonte Scuola proprio perché in realtà in questo momento invece secondo me quello che deve ancora di più essere chiaro e presente è il lato umano di chi sta dietro a quel monitor e che sta ascoltando quella formazione perché può arrivare da sei ore di stress sei ore di difficoltà a connettersi al computer perché magari non è rapportato ad affrontarsi in una nuova veste io scherzosamente li chiamo abbiamo creato tantissimi docenti youtuber proprio perché in realtà si sono dovuti mettere dietro un monitor e magari non è la ovviamente la loro indole cioè non è facile guardare una webcam e parlare anche perché molto probabilmente voi vivete di contatti visivi sensazioni durante una spiegazione cose che magari io non posso neanche percepire perché non faccio il docente e allora ecco perché volevo spiegare volevo dare diciamo un segnale forte proprio perché in realtà prima di tutto prima di essere docenti si è persone ecco perché e questo ecco perché poi oggi è nata questa intervista la seconda e ce ne saranno tante altre anche perché volevo prendere una spezzettatura di alcuni docenti che secondo me possono veramente trasmettere quella che è l'umanità della professione che avete scelto e portato avanti soprattutto in questo periodo come come delle persone forti ecco per me è quasi come voi l'animatore digitale della mia scuola quindi tu puoi immaginare ma poi tu lo sai il grosso lavoro che c'è stato però devo dire che nonostante le difficoltà che ho potuto riscontrare da parte di molte colleghe c'è stato un impegno e questa cosa va detta va detta perché no 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 si è fatta è fatta vero è assolutamente detta perché adesso le persone lavorano all'interno delle piattaforme e si sono messe in gioco subito sì sì è vero di sei ore lì detto fatto bisognava fare sì la voglia ecco era comunque questo caso in realtà non spinti da una decisione presa magari dall'alto questo caso è stata una selezione naturale una scelta naturale assolutamente era quella di rivedere i propri studenti perché si era veramente percepita la gravità della situazione quindi ho visto anche con i miei di figli la prima cosa che è stata poi fatta era quella di connettersi e rassicurare i bambini su quello che stava accadendo e quello che sta poi andando avanti ecco e a me questa cosa è piaciuta subito no sono riuscita a fare col mio benbetto sono riuscita a fare un bel lavoro perché ero riuscita anche ma perché ho delle colleghe straordinarie a creare dei momenti anche a piccoli gruppi dove coinvolgevo anche i suoi compagni quindi non c'era c'era la lezione magari solo con lui ho fatto delle lezioni solo con lui ma durante la settimana cercavamo di trovare dei momenti di cinque bambini di suoi compagni dove si facevano le stesse cose che si facevano in classe magari era lui che svolgeva un lavoro che i suoi compagni lo aiutavano ma questo è stato è stato possibile grazie soprattutto al grosso lavoro e alla coesione e collaborazione dei docenti che anche questa è una cosa che va detta e che è molto importante sono d'accordo sono profondamente d'accordo Anna io non ti ruberei ulterior tempo è stato veramente un piacere una bella mezz'oretta una bella chiacchierata soprattutto e di nuovo sempre cercando di raccontare quella che è l'esperienza umana del docente e io ti ringrazio grazie veramente di cuore in bocca al lupo per tutto in bocca al lupo per tutto buon proseguimento salutiamo qui allora eh sì ci salutiamo qui vi ringrazio tutti per l'ascolto ci rivedremo con la terza intervista di docenti presenti ciao da Daniele ancora un forte abbraccio a te Anna grazie ciao a tutti